Benvenuti a tutti, on news riguardo Terminator 5, state lì eh! Ancora quel problema tra le gambe? Io lo chiamerei vantaggio? Qualcos'altro che avete dimenticato di dichiarare? E che cavolo è? Mingus, sei geloso? Chi? Io? Stai scherzando, dovrei essere geloso solo perché il tuo ex è diversamente dotato, dorme sul mio divano? Perché martelli tutti con domande idiote? È sempre così disinibita tua sorella, quello è il mio accappatoio? Sto familiarizzando, stai cercando di insinuare, l'abbiamo fatta educare dalle suore. Sei di larghe vedute, vero, bel manzo? Sono un tipo all'antica. Da quando la tua famiglia è piombata qui, sembri un'altra persona. Papà, i genitori di Mingus. Oh, è mia madre, senza lingua. È solo vapore. Tuo padre riga le portiere delle macchine. Sei preso per dei selvaggi. Beh, c'è un autista qua fuori che c'è di danni. Figura che sei. Non mentirmi Marion, sono alieni. Due giorni a New York. Che carino. Si è iscritto al Ku Klux Klan? Sarah Connor avrà il volto di... Emilia Clarke. Nota il grande pubblico per la serie TV Il Trono di Spade, cioè Game of Thrones in versione originale, che ha superato la diretta rivale per il ruolo Brie Larson. Ebbene sì. Emilia Clarke tornerà quindi a lavorare con il regista Alan Taylor, che ricordiamo per Thor e The Dark World, che l'aveva diretta proprio in Game of Thrones. Terminator 5, che avrà il titolo, questa volta di Terminator Genisys, sarà la continuazione della saga cinematografica iniziata col film omonimo di James Cameron, nell'84. Si tratterà di un reboot della storia originale e dovrebbe vedere nel cast, oltre a Emilia Clarke, anche l'attore australiano Jason Clarke. Ma non è... Ma non sono fratelli. No, non sono fratelli. No. Nei panni di John Connor. No, non sono fratelli. Il film vedrà il ritorno naturalmente di... Beh, Arnold Schwarzenegger, nel ruolo che l'ha consacrato tra le star del cinema mondiale. Terminator Genisys uscirà nelle sale il 1 luglio 2015. Vi terremo aggiornati, naturalmente. Questa era la notizia di oggi. Ricordatevi di visitare il nostro nuovo sito, filmisnow.com e noi ci vediamo al prossimo video.